anche perché questa qua è un insert lo chiamiamo come lo imposti questo è un b side il lato A di UTMB erano i recap e questo è il lato B ok potrei anche farla già partire così così con te che chiedi ma questa cosa cos'è questa cosa è buckled purtroppo caffè olè di nuovo una nuova puntata dedicata a UTMB ma questa volta non si parla di gare questa di gare ne abbiamo già parlate in abbondanza si parla di materiali e in linea di massima di quello che siamo riusciti a vedere nei nell'unico giorno in realtà stavo dicendo nei pochi giorni ma nell'unico giorno giovedì dove si è riusciti a seguire non le gare ma quello che succedeva nell'expo questa volta in registrazione con me c'è Tommaso e che si occupa che poi si occuperà di parlare di cose in maniera molto più dettagliata di quanto potrei fare io no dicevo in realtà il una una dei motivi per cui volevo andare a Chamonix un giorno prima era per godermi l'expo ricordo l'anno scorso ero arrivato ero arrivato giovedì giovedì pomeriggio quindi era già tutto troppo tardi bisognava fare i live bisognava settare tutta la roba dei live eccetera e a Chamonix hanno la brutta abitudine di smontare tutto quanto venerdì venerdì a mezzogiorno venerdì alle due in realtà perché loro devono fare il mercato quindi sabato alla piazza di Chamonix c'è il mercato cascasse il mondo guarda io scena allucinante faccio assistenza la notte a tour maier quindi ritorno rientro di sabato mattina e intorno alle sette scendo in piazza e trovo tutti vendolo dove prima c'era normal e penso ma che cazzo sono perso qualcosa del programma da quel punto di vista i francesi sono quadrati cioè c'è ultimo e b non mi interessa c'è il mercato il sabato c'è il mercato smonti tutto il venerdì mattina e te ne vai perché noi dobbiamo vendere i tappeti e la frutta via fila e per questa cosa li apprezzi ed è una cosa che è un dettaglio che dimentico ogni anno e ogni volta e ogni volta che torno a Chamonix il sabato e vedo che stanno smontando il mercato perché magari arrivo per l'arrivo dei primi penso ah ecco perché hanno smontato tutto un giorno prima e sì quindi quest'anno sono io sono arrivato mercoledì tu sei arrivato giovedì mattina perché volevamo goderci un pochettino di più quello che tutto quello che c'era attorno al grande circo di UTMB e soprattutto perché quest'anno volevo fosse l'anno dei sì cioè la gente mi chiede vuoi venire all'evento? Sì vuoi venire a vedere i nostri prodotti? Sì quindi ho detto per un giorno mi sono tenuto con i sì in realtà non abbiamo fatti tantissimi però un po' di roba interessante e particolare l'abbiamo vista hai già citato uno di cui parleremo più tardi che è Normal che era il grande atteso sia a livello di stand che a livello di atleta del weekend direi che il weekend per loro non è andato malaccio come presentazione del prodotto però in realtà il primo evento a cui sono stato è stato quello di Altra sono stati anche bravi l'hanno organizzato a letteralmente 100 metri da dove avevo l'appartamento quindi ringrazio di nuovo Altra per questo grande favore per non avermi fatto attraversare per la milleottocentesima volta la città no evento di Altra dove presentavano in realtà sia Olympus 5 che Mont Blanc Boa è stata però occasione per avere una mini introduzione di Brian Beckstead che è uno dei CEO comunque di Altra uno dei fondatori di Altra in realtà con la loro storia che devo essere sincero non conoscevo per me Altra sono sempre stati quelli del Scarpe Zero Drop diversi dall'approccio che usava Krupitschka quindi minimale taglio le suole ma poi non rimane nient'altro quindi loro comunque un po' di suole un po' di intersuole l'hanno sempre avuta e ce l'hanno tuttora però non sapevo da dove arrivassero queste persone e in realtà ovviamente grande classico fondatori che lavoravano in un negozio di scarpe fondatori che facevano track and field e cross country cose di questo tipo fondatori che a un certo punto dicono ma perché noi dobbiamo correre con del drop nelle scarpe facciamo una cosa intelligente mettiamo un paio di scarpe nel nel tostapane non è il classico nostro tostapane con lo spazio per le fette va immaginato più come se fosse un fornetto scaldavano le scarpe e quando erano calde quando l'intersuolo era caldo abbastanza la tagliavano via per avere il loro zero drop hanno cominciato a lavorarci hanno sviluppato il prodotto classica cosa che secondo me è classica storia americana che difficilmente si riuscirebbe a sentire qui qui da noi qui in italia non è quello che noi chiameremo l'americana bravissimo cioè quello che la classica cosa che ti alzi al mattino con un'idea e da noi tipo ah vabbè dai non era male questa idea e poi passi altro e loro hanno cominciato a fare questa roba tanto che i loro colleghi tra virgolette gli altri atleti che correvano con loro comunque anche di altre scuole attorno si erano interessati al prodotto e praticamente credo abbiano fatto la fortuna del calzolaio che abitava scusami che aveva il negozio dall'altra parte del running store dove lavoravano il calzolaio diceva una roba è il tipo che non so se ha lavorato tipo in un periodo ha lavorato tipo a un migliaio di scarpe una roba una roba indegna e vabbè fatto sta che per farla per per farla breve classica cosa sono riusciti ad avere un un finanziamento forse parte del finanziamento credo sia proprio arrivato dal genitore di backstead se non ricordo male per cui hanno cominciato a produrre scarpe o comunque hanno cominciato a lavorare sulle scarpe ma per me la cosa fantastica è il fatto che backstead che comunque è quello dei due se quello dei due che si definisce il venditore quello che girava in macchina per presentare il prodotto ai negozi era anche quello dei due che correva le gare da 100 miglia loro vengono dall'aiuta perché l'altro era golden arper esatto il suo socio che era più il tecnico sì 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 e backstead ci ha tenuto a sottolineare fa golden è tuttora il detentore del record di maratona per un dodicenne e ha chiesto in giro secondo voi quanto ha fatto secondo voi quanto ha fatto e non so chi ha provato a buttare lì un 4 e 30 credo fosse un 4 e 24 una roba una roba indegna però vabbè no in realtà dicevo dei due backstead è quello che poi effettivamente facendo 100 miglia 100 miglia in juta in larga parte vuol dire wasatch range e cose di questo tipo quindi lui ho scoperto si è fatto una delle sue prime wasatch front 100 con un prototipo di altra non un prototipo di scarpe e ne avevano già buttate fuori altre quindi c'era già una base no uno dei primi prototipi di altra che è una roba indegna nel senso è una cosa insensata se uno pensa vado a fare una 100 miglia soprattutto di quel tipo su quel terreno con un paio di scarpe che non ho idea se funzioneranno soprattutto per 100 miglia che è una gara che doveva veramente avere il controllo di qualsiasi minuscolo dettaglio e lui si è buttato e ha funzionato e poi a proposito di prototipi ne avevano esposti lì all'expo avevano delle prime scarpe ricordo c'era una lumpic vecchissima che ho riconosciuto è una delle scarpe che avevo preso nel 2015 2016 ricordo che ci ho corso una prima ultra vericus ed erano scarpe della grandissima comodità ma percepivi che non sapevano bene che materiali usare nella parte superiore a mai era qualcosa sembrava carta testa rigida e non avevo grandi sensazioni in termini di kit perché era veramente uno zero 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 quelle che provi adesso sembrano un po più sostanziose e al tempo erano proprio delle tavole grandissimo comfort in termini di spazio materiali proprio da rivedere però è uno dei marchi che ha fatto il salto più alto in assoluto ok apro e chiudo parentesi su un negozio vicino dove stavamo noi in centro c'era c'era uno stand oca con tutta l'evoluzione della oca mappate dalla prima all'ultima e comunque già la prima scarpa che era una scarpa del 2010 mi pare 2012 giù di lì era comunque fatta bene cioè la guardavi dicevi no ok questa sarà anche una edizione 1.0 di un anno fatte però dietro vedo scelta di materiali di donna design altra no altra sono quattro scappati di casa due nel retro di un negozio che saldavano dei pezzi di scarpe e hanno fatto secondo me una una crescita incredibile anche perché è un marchio veramente ai ai shoe counting è un marchio che sale ma avevo notato anch'io comunque ti avevo raccontato subito dopo che ero andato a correre chianti mi aveva stupito comunque quante altra ci fossero il terreno per carità era perfetto e si prestarà tantissimo non solo quante altre ci fossero ma quante montblanc ci fossero ed erano uscite letteralmente quella settimana quindi non è cioè posso capire che ci sia la persona che vede una scarpa nuova interessante si butta alla prova ma quella esca è anche una scarpa che è figlia da figlia di sono già cliente abituale so già com'è più o meno il fit so già come mi potrei trovare la cerco magari certo quel tipo di esatto esatto perché le fanno solo loro e no appunto loro l'altra cosa che dicevano che onestamente non sapevo il tutte le loro scarpe sono hanno il nome di montagne nello juta quindi long peak potevo presumere fosse il nome di una montagna timp penso sia timpanus se non ricordo male l'hanno detto l'hanno detto in presentazione olympus ovviamente un altro un'altra montagna e per le montblanc avevano proprio deciso di creare una scarpa europea adatta a utmb quindi infatti nelle slide c'erano anche tutte le varie c'era la mood board di delle delle cose degli elementi a cui si erano ispirati per creare questa scarpa più europea è una scarpa leggermente differente rispetto alle loro è come come approccio si sono non si può dire che non abbiano coraggio nel sperimentare cose nuove nel nel provare a innovare a fare cose nuove io la montblanc l'avevo provata qualche mese fa poi per i per i test di depil secondo me è una buona scarpa su cui bisogna bisogna ancora lavorarci nel senso ha delle cose ottime e ha delle cose da rivedere quello che poi quello che è il difetto che poi hanno trovato tutti è il tallone secondo me è poco è poco bloccato cosa assolutamente al contrario per quanto mi riguarda di olympus che invece è perfettamente bloccato il tallone è molto facciante io propongo un crossover esatto fuori dai denti vogliamo i materiali dell'agon blanca la rapidità e il peso leggero ma vogliamo il tallone che poi la cosa allucinante che faceva c'era anche il designer della sia di olympus che di montblanc che faceva vedere che le due scarpe erano state pensate in maniera parallela perché comunque avevano dettagli a livello di design che si possono hanno dettagli a livello design che si possono trovare in entrambe le scarpe il taglio trasversale verso il tallone perché ci sono i due materiali uno più traspirante uno più fasciante il la v sul tallone dietro che è identica in entrambe le scarpe quindi c'era tutta una serie di dettagli quindi ecco secondo me riuscissero veramente a far avvicinare i due mondi potrebbe essere potrebbe essere veramente un bel esperimento e prima di beh senza esagerare sul discorso poi montblanc boa forse ne avevamo anche già parlato su the long run onestamente non ricordo e nel caso invito la gente andare ad ascoltarsi tutti i 13 episodi che sono già usciti per scoprire se ne abbiamo già parlato no il lancio era quello per era o meglio era un'occasione per mostrare montblanc boa che devo dire in realtà mi incuriosiscono perché potrebbero da un certo punto di vista migliorare il fit della scarpa e quindi forse andare a sistemare anche un pochettino il problemino del del movimento del piede all'interno della scarpa ho chiesto che venga rilasciata la versione che si vedeva nei prototipi usati da browning e dalla basham perché i colori erano fantastici ok il bianco e rosso benissimo ma aveva questo colore questo azzurro arancione con il dettaglio di uno dei due boi in arancione era veramente una scarpa bellissima quindi spero che l'anno prossimo facciano cose un pochettino più complesse anche l'occhio vuole la sua parte soprattutto per me quindi tra l'altro hanno lanciata con un colore competitivo perché l'idea è di una scarpa racing bianco rosso che richiama un po mi ricorda tantissimo la lecchie sense di salomon di quelli di chile di chile no da dar ground diciamo con questo tacco bianco e l'inclusione completamente rossa anche in questo caso qui poi io catalogo per l'anno prossimo li ho viste ancora sulle bianche e rosse però ci avevano detto che c'erano dei colori collezione non l'ho visto io quello che faceva il riferimento non potrebbe essere un tipo di colori collezione bella l'idea del boa doppio perché io ho provato diverse scarte con un boa singolo e il pit era buono ma tendeva a spostare tantissimo la pressione sul collo del piede averlo doppio per riuscire a chiudere bene anche la sezione in prossimità delle dita ti dà proprio tutta un'altra sensibilità io l'ho provato con le speedland di cui questa vuole essere una specie di modello competitor alla fine con speedland c'è veramente una tecnicità nel riuscire ad aggiustare il fit che che te le fa sentire le scarpe più comoda chissà se diventerà non dico la norma ma quasi nell'utilizzo del boa mi rendo conto che è un costo e va ad alzare il costo della scarpa se non ricordo male montblanc con boa sono 220 euro però effettivamente la precisione che riesci ad avere andando a coprire così tanto così tanto così tanta superficie del collo del piede è notevole quindi effettivamente anch'io ricordavo di gente che mi diceva che con un boss solo non riuscivi ad avere quel tipo di di fit preciso e comodo mettiamola così andava tanto aggiustato ne parlavo con maria carla anche stanno andando a correre lei si è fatta diciamo in my shoes dai ragazzi di boa e hanno sistemato più di una scarpa però sempre con borsolo il momento qui ha provato ai testi altra la montblanc col doppio ha detto che lei che è abituata a correre con scarte sempre con un boss quello averne due le ha fatto le ha cambiato sì ma anch'io effettivamente ero riuscito a mettere i piedi solo mettere i piedi speed land perché erano almeno due numeri più piccole rispetto al mio però sentivi subito il il modo in cui il doppio boa riusciva a fasciarti il collo del piede e tenertelo fermo che poi anche ti permette anche magari un un aggiustamento in salita in discesa a seconda di quanto hai bisogno o a seconda di quanto si sta gonfiando il piede ad esempio o a seconda di che calza hai sì anche perché sia altra è conosciuta perché no c'è il loro brevetto principale è il fit shape pro box quindi questo spazio interiore però ne fanno per tipi a diverse larghezze sul montblanc hanno scelto di utilizzare quello standard che non è la più larga di tutte non è neanche quella slim delle scarpe super forte che è quello della escalante giusto per dire sì della rivera delle scalante sì sì che è quello sarebbe più da stradale e invece lo standard che quello che mettono sulla maggioranza dei modelli l'hanno scelto anche per un modello che volete performance come questo per permettere a tutti di avere una buona minione di base d'appoggio e boa perché se l'avessero fatto troppo largo e poi tanto le scusa che tanto posso posso stringere quanto voglio in realtà tutti si sarebbero ritrovati a stringere al massimo chiaro sarebbe stato comodo quindi hanno fatto una scarpa già di base un filino più asciutta per avere un fit più preciso però è un bel progetto a me la Montblanc che abbiamo provato i test questa primavera l'ho piaciuta tantissimo verso la sonea del tallone mi dicono che anche col boa quel tallone lì rimane troppo un po' invariato ma che è migliorato sensibilmente la capacità di allacciare la scarpa e di usarla con un piacere rispetto a quella con i lacci tradizionali che poi sarebbe da capire se avendo comunque una scarpa così larga davanti magari prendendo un mezzo numero più piccolo riesci a sistemare questa cosa e senti che io l'ho presa giusta quella volta cioè invece il 43 ho preso il 42 e mezzo e effettivamente è migliorata tanto cioè è molto più asciutta ti senti però un po' scoperto dietro però in salita è un gusto è un po' la discesa ma infatti per dire le mie sensazioni provando Montblanc era molta comodità sulla parte davanti molto morbida la tomaia veramente come se fosse una calzetta e comunque aveva aveva una sua protezione dava un suo senso di protezione molto comoda la calzata e veramente belle da correrci e tra l'altro per me che non avevo era tanto che non provavo altra avevo un corso con delle scalante però dico proprio una di quelle scarpe che puoi prendere dalla scatola e mettetela ai piedi e correrci aveva solo il difetto del tallone questo ma secondo me credo che a un certo punto dovranno lavorarci avessero tutte le loro scarpe che sono così ti direi è un problema della linea completa di altra sanno come fare i talloni quindi mi rendo conto che probabilmente è anche un discorso di peso sul tallone sono andati a tagliare tantissimo peso perché il tallone è praticamente scarno ha solo due imbuttiture laterali e poi comunque Montblanc per lo stacco ammortizzante che ha rimane leggerissima ed è un gusto averlo al piede perché è veramente una scarpa che non diretti la metti su sembra un mattone quando lo guardi all'esterno la metti su è di una leggerezza veramente importante e in corsa come dici tu è veramente piacevole spinge bene su quei ditte la senti divida e per una scarpa così alta da terra è un'ascoltante che poi forse è un po' il contrario di come ho sentito le Olympus che abbiamo avuto in test da altra mi sono sembrato un pochettino più secche però credo sia anche un discorso di sono un pochettino più rigide sono sicuramente più pesanti sono più fascianti quindi sono un pochettino più strutturate e sono fatte in modo da probabilmente anche da essere una scarpa adatta uno a chi pesa un pochettino di più e due chi deve fare distanze un pochettino più lunghe sì poi la cosa quella componente importante lo fa questo cambio di feeling tra le due scarpe quello fa la densità dell'inversuola perché la Mont Blanc e la Mont Blanc Voix montano il loro Ego Max si chiama che è un'inversuola iniettata ad alta elasticità quindi se la puoi comprimere molto l'hai fatta tornare in forma e spingerti via ha una durata minore del tempo però ha la caratteristica di essere molto leggera a parità di spessore con la Olympus la Olympus è fatta con una classica EVA pressata una schiuma pressata e ha la caratteristica di durare di più è un po' più densa è un po' più mattone però è stabile cioè non si deforma in pieno di talmo di piede è molto molto sicura l'estragrande maggioranza delle scarpe da corsa da trail e non anche da asfalto magari da diciamo da distanza importante sono fatte con questo tipo di schiume pesano un po' di più ti durano meglio però e sono anche più sicura in termini di studi di tagli sì 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 unita al fatto che hanno sotto veramente un bel Vibram nel senso bella tesselatura grip fantastico ha piovuto in questi giorni qui a Bassano e presumo anche da te tanto non è che stiamo così distanti io mi ricordo l'anno scorso che avevo ai piedi un paio di Wildors sotto casa e ho della pietra sotto casa e ancora un po' mi trovavano in Brenta a nuotare e in realtà con queste sembrava veramente non solo fossi asciutto ma fossi in piano su terra nessun tipo di problema a livello di grip quindi sono belle piantate sì 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 poi quando mi avevo aperto la scappa le ho prese in mano mi è tornato in mente che queste Olympus le avevo veramente sfottute quando ho fatto il campionario con un'altra per ordinare perché avevano questa talloniera che emergeva no ha una talloniera prepotente che emerge sul resto della scarpa caspita quando è venuto il momento di metterle e l'ho usata ho sfruttato questa talloniera che ha un occhiello per passare un passadito per metterla più comodamente ho detto cazzo che c'è cioè veramente è comoda molto comoda molto comoda è brutto da dire ma è decisamente non tecnico ma molto ciabattone proprio ci stai dentro comodo che sia da correre o da camminare il piede è proprio fermo il materassone o sarà chiaro è un mattone ai piedi non scappa via è collocchio però ci cammini sei stabile e fermo sì sì bisogna solo un attimo riprendere l'abitudine perché appena le ho rimesse ai piedi ed era due anni che non provavo un'altra il mio corpo si era dimenticato che stava in pendenza costante quindi mi sembrava un po' di cadere verso dietro però in realtà è questione di è questione di minuti molto molto interessante e una parte di me vorrebbe vorrebbe provarle a brevissimo su in montagna vera e vediamo vediamo cosa succederà vediamo se per loro è la scarpa comunque fino all'anno scorso era la scarpa che anche i loro atleti usavano per gli UTMB o comunque andare lunghe a parte magari i classici broncobilli e qualche atletone che arriva a finto perché era un po' più aveva un profilo un po' più basso cioè però Olympus è sempre stata quella per eccellenza quella sua la giusta la durata giusta per stare in giro tante ore ma infatti avevo visto le schede degli atleti che c'erano lì all'evento e bene o male tutti si dividevano tra c'era già il passaggio la doppia scarpa che prevedevano di usare ed erano tutti Montblanc Boa Olympus forse Einal aveva Timp per cominciare e Montblanc a finire tra l'altro Einal forse ha fatto la Istria con le Montblanc tutta quanta gara che tra l'altro secondo me è perfetta per le Montblanc perché proprio quelle sezioni da correre secondo me sono fantastiche per quelle scarpe quindi per quanto loro l'abbiano pensata per il giro del Monte Bianco per me è una scarpa che va benissimo anche su sterratoni perché è proprio morbida e bella da sentire i piedi corre bene mettiamola così ultimo dettaglio ma poi passiamo oltre perché se no parliamo solo di altra una cosa che non sapevo era una curiosità che avevo e qualcun altro l'ha chiesto durante l'evento è se vibra cioè hanno chiesto praticamente se sono loro a disegnare la tessalatura delle suole suole Vibram o se è Vibram a farlo per loro e loro hanno detto no no facciamo tutto internamente e poi passiamo al progetto a Vibram e Vibram dice semplicemente qua potrebbe esserci una criticità o questa cosa andrebbe sviluppata meglio così però non è non sono solo loro a farlo però era una di quelle cose che di cui onestamente avevo curiosità ok detto questo passiamo all'Expo Expo cresciuto enormemente rispetto all'anno scorso penso sia in termini di metri quadrati che di prezzo al metro quadrato per gli espositori no mi aspettavo oddio no me l'aspettavo me l'aspettavo che crescesse però mi aspettavo qualche rinuncia da parte degli espositori perché secondo me non ho idea di quali siano i prezzi non sarebbe nemmeno troppo difficile andare a trovare quello che è stato il prezzo negli anni scorsi e quello di quest'anno ho già in mente un paio di persone a cui potrei chiederlo ma non mi stupirei se mi dicessero il prezzo è raddoppiato e probabilmente eppure c'era tanta gente sì sì assolutamente assolutamente è proprio quello il motivo è cosa fai non ci sei non dici di no è la FOMO per gli espositori insomma la Fear of Missing Out per gli espositori ma io ho visto anche dei marchi che non mi sarei aspettato di trovare cioè c'era 100% fa 100% fa fanocchiali però è un marchio che è dentro i circuiti di ciclismo ok di triathlon cioè c'erano delle c'erano più di una di un marchio dedicato a elettronica che non si vede tanto per esempio c'era KT che fanno trasmettitori anche per adventure racing o per semplicemente le persone che si allenano in mezzo ai monti e vogliono essere trovati in ogni momento mi ha stupito vedere effettivamente stand non con i soliti marchi del secondario tra il running ma anche con che all'esterno qualcuno ha detto ah aspettacolo di esserci anch'io sta in questo momento storico in cui lo tieni di cambiare cose beh credo che la scelta poi di chi ha deciso di esserci abbia pagato perché a livello di pedonabilità l'evento è stato è stato enorme c'era veramente una quantità di gente folle molta più ne parlavamo in realtà a Chamonix molta più degli anni degli anni precedenti banalmente a parte il fatto che era letteralmente impossibile arrivare in centro per vedere l'arrivo dei primi noi l'abbiamo visto a lungo fiume ma mi è capitato di andare a vedere un amico arrivare alle 5 del mattino di domenica a Chamonix e io ricordo come sono gli arrivi a quell'ora a Chamonix per un TMB e non c'è nessuno c'è solo magari un gruppo di ragazzi ubriachi che hanno chiuso il locale e sono ancora lì a far festa e due parenti ecco c'era gente che faceva casino c'era veramente un sacco di gente che aspettava il proprio atleta e atleti che arrivavano e magari 5 o 6 persone partivano per seguirli tra l'ultima curva e il traguardo quindi vuol dire che se ogni atleta si è portato su una crew da 5 o 6 persone ci sta il ragionamento della città piena e tra l'altro Chamonix non è nemmeno mai stata una di quelle città come può essere Cortina dove il 90% 95% della gente che trovi nel weekend di Lut è gente che gravita attorno a Lut ci sono anche tantissimi turisti che purtroppo scegliono quel weekend per venire a Chamonix malauguratamente per loro e forse una delle cose che colpiva di più due cose che colpivano di più uno l'expo si è allargato anche sulla sulla parte destra della piazza quindi dall'altra parte della strada che di solito era sempre vuota forse negli anni scorsi mi pare di ricordare che veniva parcheggiato lì la roulotte di il camper di Vibram dove ti risuolavano la scarpa lì parcheggiavano i pullman per portare atleti accompagnatori in giro per attorno al Monte Bianco ecco tutta quell'area quest'anno è diventata stand e l'altra cosa che spiccava veramente tantissimo era il tendone enorme che UTMB come UTMB World si è riservato per vendere la qualunque ah sì cioè la vera brand experience per qualsiasi presente insomma per qualsiasi runner accompagnatore era questo tendone enorme che poi aveva dei tendoni secondari disposti verso il centro in cui trovavi un po' i souvenir diciamo e dentro c'era il mercatino del brand UTMB cioè incredibile le maglie delle maglie le felpe di ogni singola gara che c'era durante la settimana quei nomi dei partecipanti iscritti dentro la maglia le tazze calamite i portachiavi qualsiasi cosa tutti ovviamente gli oggetti degli sponsor principali meno le auto quelle non ci stavano dentro però appunto c'erano zaini di camelback c'era ovviamente tutta la roba di Oca c'era compresport compresport esattamente ti ricordi che qualche anno fa l'unico stand che aveva della roba logata UTMB era compresport era l'unica cosa colori diversi fatti apposta per UTMB mi ricordo un archetto in questo che era vestita 100% compresport per UTMB e non solo lei è sempre coda costante alle casse per la gente che era dentro a comprare roba pazzesco avevamo già visto secondo me un piccolo assaggio di questa cosa all'expo tra virgolette perché è veramente una cosa piccolina di loot dove c'era un'area dedicata a UTMB e lì avevano già delle felpe avevano le magliette avevano qualcosina questo era un centro commerciale in confronto faceva veramente impressione qualcuno diceva se bisogna vedere lo zampino dell'approccio Ironman da qualche parte questo è lo zampino questo è è vero le bigliette da visita secondo me di alcune cose in corso sì 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 anche perché poi quelli tendoni lì facevano un po' da tramite tra gli arrivi degli ospiti nella zona dei banchetti delle gare e l'expo vero e proprio quindi ti invitava a entrare da lì all'expo poi c'erano altri accessi ma erano un po' più secondari in realtà mi sa che ce n'era solo uno di accesso che era quello di fianco allo stand di buff ma perché credo che credo che per questione di sicurezza non potessero chiudere completamente e tenere solo il tendone come accesso è uscita e poi questo era una specie immaginandoci una piantina questo era la diciamo questo tendone garantiva l'accesso diciamo all'expo principale però quest'anno appunto come dicevamo hanno aperto l'accesso anche alla zona di destra del parco dove normalmente si tiene il mercato e lì c'era tutto un altro expo e non c'era il tendone Bio Team B ma c'era il Loca Base Camp che faceva scena devo dire sì assolutamente faceva la sua scena un enorme stand ha fatto adergiato su una struttura insomma semi permanente ed editata solamente ad Oca con attività tutta la settimana group run interviste con gli atleti per le per firmarvi le scarpe e ho visto a Dan firmare i capellini allo stand di una gara del verde e lì davano anche la possibilità di prendere delle scarpe in prova per 24 ore tutti i loro modelli persino le maffate appena uscite è incredibile ho visto le loro group run tra i vari eventi è stato un evento massiccio c'erano penso dicevano 150 persone che se fosse vero sì me lo aspetto lasciamo sì sì assolutamente sarebbe piaciuto farmi firmare le speed got dallo speed got visto che l'ho visto letteralmente davanti allo stand di Oca a passare però vabbè è andata è andata così l'ho incrociato il primo giorno e l'ho fermato così un po' un po' imbarazzato ma ho fatto due parole penso di avervi detto una cosa del tipo sì sono un grande fan e poi ho chiesto hai cariggiato questa settimana non mi ricordavo che era partita non ha finita no ma con Davide mi dicevano cosa vuoi ormai la categoria non la dice più eh no decisamente no non sono i suoi territori di caccia però credo che in quanto uno della grande famiglia Bay UTMB Carl Meltzer doveva esserci anche lui quasi quasi obbligato abbiamo visto bene o male tutti i race director grossi c'era Charles Shea di Canyons che tra l'altro Canyons l'anno prossimo sarà major di UTMB quindi insomma sì da quello che parlavamo hanno invitato proprio i rappresentanti di gare importanti del nuovo circuito perché UTMB vuole tutte le gare non solo si uniformino come standard perché chiaramente quello che l'aveva sempre detto era l'obiettivo numero uno nell'offerta all'Iraner ma che imparino proprio a gestire il piano sanitario come viene l'utilizzo di UTMB di ristori con varie eventuali come viene l'utilizzo di UTMB quindi c'è una dietro una cura e quindi è necessario vedere toccare con mano come funziona una gara di questa entità poi è chiaro che l'utilizzo di UTMB porta in una settimana 10.300 atleti allo start line però non bisogna arrivare lì però sicuramente ti fai un'idea penso di come è di organizzare le altre cose e poco distante l'abbiamo già accennato prima poco distante dallo stand Oca si trovava lo stand anche di una piccola di un piccolo brand di scarpe appena nato spagnolo chiamato Normal con due N davanti ma che mi rifiuto di chiamare N-Normal sei riuscito a prenderle in mano tu sei riuscito anche a metterle ai piedi metterle le schira giusto chiamo schira sì boh magari qualche norvegese verrà adesso no comunque sì indossata grande sensazione non saprei ricondurla a un'altra scarpa già provata era fasciante ma allo stesso tempo comoda davanti e veste lungo cioè se quello lì è effettivamente il campionario poi di protezione quel 42 e mezzo lì che ho provato che solitamente è una storia di taglia vestiva lungo forse perché è proprio spaziosa davanti non è un'altra con quel fit shape o marcato però ha questa forma aderente sul collo del piede davanti comoda assolutamente comoda disegnata un po' a banana mi è ricordata un po' una brutta da strada come vero 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 la cosa che più stupiva era la leggerezza totale della scarpa inesistente e non era e nonostante leggerezza non era una scarpa che appena ci stavi in piedi ci molleggiavi la sentivi inesistente c'era sostanza c'era una c'era una bene schiuma sotto anche se l'impressione che ho avuto noi abbiamo visto quel modello usato da Killian da Dakota Jones eccetera eccetera era l'unico presente allo stand abbiamo visto comunque ai piedi di Toffol Castanier e della crew di Killian la scarpa più cheap chiamiamola così quella più economica quella non si è riuscita a prenderla in mano l'unica cosa che l'unica impressione che ho avuto io comunque della scarpa molto leggera sembrava veramente ben fatta mi è spiaciuto non riuscire a metterla ai piedi ma il mio numero era stranamente sparito e alcune degli elementi mi sono sembrati un po' hai presente quando giochi con un con un videogioco e fai la personalizzazione di un personaggio e scegli la personalizzazione standard non ti metti lì a customizzare troppo ok quindi le stringhe erano molto basiche la linguetta molto basica la ricordo tra l'altro non imbottita ma perlomeno cucita sui lati così in teoria non dovrebbe muoversi granché la Tomaya non era niente di incredibile ti ricordo che Matrix Matrix lo prendi in mano non è non ti dà senso sezione di wow che è spiegata è solo robusta quindi no ecco non aveva sarà anche perché probabilmente era completamente nero grigio insomma non è che ormai siamo talmente abituati a queste scarpe tipo con questi nomi tipo Tangerine Dolphin e cose di questo tipo però appunto era un po' poco evidente e su alcuni dettagli sembrava un po' economica però ripeto sono sono mie idee che mi sono fatto tenendola semplicemente in mano per un minuto e guardandola però straordinariamente leggere quello onestamente non mi aspettavo che fossero così tanto leggere tra l'altro monoblocco in suola ecco quella quella sapevo di economica light base come se fosse una roba il tipo dacci quello che hai quello che ti costa meno sì ma è un design di altra beh lo prendiamo ma è un design di altra di cinque anni fa va bene lo stesso ne hai in magazzino a posto così sì era monoblocco light base esattamente come quello mettiamolo così come quando mandi a risuolare una scarpa in vibra esatto e ti danno quello perché quello c'è sì sì è vero però devo dire che la sensazione di avere così poco i piedi ma il suo tempo di avere protezione è meno adatta cioè ho capito che può essere una scarpa da distanza ma i 100 miglia faranno in pochi con quella scarpa lì però sì è una scarpa che uno può pensare di usare a 200 grammi è una scarpa che uno può pensare di usare per una distanza media così così come fare 1200 chilometri con quella scarpa è anche quello non per tutti però c'era anche l'esploso e si vedeva nel sottopiede lo stesso disegno che c'è se che trovi se apri l'esploso di una sense di Salomon le scarpe quelle minimali di Salomon che hanno un termo un materiale termopressato che serve un film termopressato che serve a proteggere tutti i sassi c'era anche nell'esploso che ho visto della schiera quindi immagino che abbiano scopiattato un po' la tecnologia di Salomon comunque è una cosa che fa anche Bruce quindi non è più un brevetto Only Salomon però quindi c'è un minimo di protezione dopo la leggerezza lì c'è questo film che ti dà un po' di sostegno dai sassi ecco sotto un po' di protezione che poi il loro focus credo sia proprio quello evita di cambiare la scarpa dopo 500 km tienila per mille perché è ancora funzionante e godibile sarà da vedere però insomma quello sono curioso onestamente spero che poi nei prossimi mesi si riesca a fare un qualche tipo di test so che alcuni negozi in Italia hanno già cominciato a testarle tra l'altro quindi ormai manca poco tra un paio di mesi ci siamo quindi arrivano prima di passare ai prototipi io direi finiamo quello che è stato il nostro giro tra gli stand abbiamo visitato uno di quelli che è il sponsor main sponsor di UTMB che è Camelback che ci ha fatto vedere in anteprima perché eravamo lì a UTMB quelli che saranno i loro prodotti per il 2023 non sono ancora stati lanciati probabilmente non sono ancora veramente stati presentati in realtà però noi possiamo parlarne perché siamo stati a sciamonia vederli ci hanno rassicurato di questa cosa possiamo parlarne perché era la giornata del sì sì è vero abbiamo visto abbiamo visto questo cambiamento in casa Camel parlo di cambiamento perché magari chi conosce il battica già nella loro offerta sa che normalmente Camel da anni aveva un ottimo al di là di una grande storia di due metri dedicati al multisport alla volta a Mike all'Iking aveva un settore trail running con due grosse famiglie una maschile e una femminile quindi definiva gli zaini già la partita dal genere in questa nuova concezione invece per 2023 tutti gli zainetti sono pensati con fit uomo e donna quindi c'è lo stesso zaino con colori diversi ma lo stesso identico modello che va bene sia da uomo che da donna non cambia in nessuna feature in questo senso quindi ha le stesse caratteristiche di capienza e di struttura abbiamo visto tre modelli della linea corsa il modello diciamo entry level per una persona che cerca un ausente affidabile del trail ma non ha necessità di grandi capienze o di portare il materiale obbligatorio di una 100 km nelle Alpi e quindi che è il circuit run vest poi abbiamo visto un modello intermedio che è la loro punta di diamante nel senso della scarpa che è il loro modello primario per tutti diciamo che è il trail run vest e poi un modello più competitivo per l'atleta evoluto che esisteva già si chiama Zekir e adesso è stato portato alla versione pro Zekir pro vest hanno tutti e tre le loro caratteristiche ti è piaciuto il pro devo essere sincero sì in realtà mi è piaciuto sia il materiale traspirante che hanno usato sulle spalle e sulla schiena perché comunque è questa maglia molto aperta che sembra molto leggera e molto figa anche la novità della faretra ne avevo parlato con Marcello quando avevamo fatto la la diretta da Triant e dicevamo che comunque c'era discorso del ormai un sacco di brand si stavano allineando sul concetto del faretra meglio di bastoncini dentro la fascia e quello che fanno loro è adesso con lo Zephyr Pro è infilare la faretra all'interno dello zaino e farla comparire a comparsa la faretra non è altro che un appendice appunto nascosta in una tasca posteriore dello zaino può essere estratta e mi sa via piacere come c'è d'immaginarselo come un sacchetto che si sottola dal suo contenitore attaccato allo zaino viene innestato in alto sugli spallacci e quindi si ha la faretra in bolla come le più famose faretra che si vedono in giro che sono di Salomon esatto tra l'altro possibilità di attaccarlo sia a destra che a sinistra ma presumo che questo lo faccia anche Salomon perché ha solo due passanti giusto e possibilità di staccare la faretra dallo zaino nel caso non servisse quindi però ecco interessante come concept il fatto di poter volendo ributtare tutto all'interno dello zaino e tenerla compattata si e poi questo per retra non l'hanno messo su un zaino a casa non l'hanno messo su uno zaino da una distanza da 12 litri che non è un'ottima capienza per poter anche affrontare una gara come i CCC o TMV e i TDS per il tipo di materiale obbligatorio di impegno di materiali che c'è sono 11 litri effettivi di cargo più un litro in liquidi però insomma è tutta la capienza necessaria e il bello che la cosa mi piace soltanto ma che da sempre mi piace di camel non va a taglie ma lo sei tu che lo gestisci grazie a tutte le regolazioni di strato di regolazione che hai sia frontalmente dove gestisci un po' la tensione sullo sterno che lateralmente sui fianchi dove puoi decidere tu appunto di se tenerlo più comodo più stretto anche a seconda del carico che hai quindi veramente ben fatto e sai che io vivo a fatica in un mondo tra il vest di Salomon e gli zaini Ultimate Direction e vivo insoddisfatto di entrambi i mondi in realtà mi sono piaciute anche molto le tasche come sono state strutturate sullo Zephyr cosa che ho sempre problemi con l'Ultimate Direction soprattutto ultimamente perché mi sembra che ogni iterazione dello zaino più che migliorare le tasche fanno di tutto per peggiorarle o renderle meno usabili ecco queste mi sono sembrate più intelligenti mettiamola così ragionate potete portare oggetti di valore tasche larghe per borracce larghe ma poi hai anche tasche aggiuntive per la nutrizione quindi insomma c'è veramente tutto infatti il mio problema con Salomon è la mancanza delle Zip parentesi però sai è un approccio diverso comunque il modello che hanno fatto uscire adesso che si dice quello che hai tu che è il Sense le ha le ha la doppia quindi si sono aggiornati quest'anno anche loro il 2022 anche loro sono arrivati a avere la doppia giusta frontale la cosa bella dello Zephyr è che tutte queste caratteristiche di tasche e materiali traspiranti non sono solo del modello più avanzato ma li troviamo anche sui modelli diciamo un po' più semplici quindi sono tutti belli fatti in mesh traspirante chiaro il sistema tasche varia perché i litraggi calano da 11 litri si va al 7 litri del trail vest e al 7 litri ma più compatti del circuit run vest che è quello più semplice insomma anche perché il trail run vest è pensato ancora per ospitare due mezzi di litri frontali quindi con la classica stazione da 3 il circuit che dicevamo è un po' più in gilebre è stato partito per il beginner e accomoda la tasca idrica la camelback già sono approcci diversi anche in base all'esperienza del runner sicuramente che poi loro continuano spingere fortissimo anche sul discorso di camelback proprio anche perché già dall'anno scorso mi pare avevano innovato quello che era la loro beh hanno mantenuto la crux che è la loro classica sacca e avevano aggiunto quella con la con la zip a tenuta stagna apribile e chiudibile facilmente la crux penso sia l'unica vera camelback che è funzionale al trail nel senso tra una persona che vuole arrivare a ristoro toglierla in fretta c'era una maniglia che appunto qui ha poi sorreggere la rienti in fretta e la metto via e tante altre sono molto più macchinose costano meno qua si vede il tocco del brevetto ecco funziona loro tra l'altro oltre agli zaini diciamo che comunque manterranno le fasce questa non è stata cambiata tu sei il re indiscusso il più grande tester al mondo di fasce insomma le idee delle fasce si loro hanno l'ultra belt veramente veramente valida è una fascia da tre litri di capienza quindi due e mezzo di cargo più 500 ml di spazio borraccia porta bastoncini posteriore due tasche di grande larghezza che se se uno utilizza la borraccia diventano una sola però due tasche ampie e tante taschine laterali a pressione quindi che più le rienti sono stabili veramente veramente utile la cosa bella è che anche una tasca zippata una delle due tasche grandi è zippata ed è water repellent quindi anche se subi tanto riesce almeno per un paio d'ora riesce a tenerti abbastanza asciutto se no è meglio avere un sacchettino che ti protegga il contenuto se hai chiavi o il telefono però molto molto stabile e va a taglie quindi anche precisa come capacità di regolazione va proprio a taglie come naked o è sml eccetera per regolarla anche a pressione quindi nella mezza taglia puoi anche trovare un quarto di taglia io che tra l'altro dovrei essere uno che è interessato agli zaini per correre in realtà le cose che forse mi sono piaciute di più sono gli zaini multisport lo Zephyr era bellissimo devo essere sincero però i loro zaini multisport sono fantastici sarà perché ho sempre questa idea dell'idea di riuscire a trovare uno zaino che mi possa andare bene per quello che può essere una corsa magari non un UTMB però una sezione da correre ma anche una passeggiata un hiking in giro col computer eccetera e i due nuovi modelli sono veramente notevoli sì Octane per loro è la linea che distaccano dal hiking e dalla mountain bike e dicono questa è la nostra linea per il multisport inteso come potrebbe anche essere un zaino da turismo un zaino che tengo sotto il giorno riempie di qualsiasi cosa un zaino da commuting ok quindi può venire buono veramente per una grande varietà di attività aerobiche in cui devo camminare e portare in giro tanto carico sono invece di tanti materiali perché all'esterno era leggerissimo il tatto però allo stesso tempo era ripstop quindi era un nylon antistrappo che mi ha dato una buona impressione di sì ho tutto al sicuro ecco mettiamo una cosetta e le tasche sono importanti sia quelle a pontale che quella diciamo da zainone posteriore è fatto un po' a saccone quindi non hai tanti scompartimenti per diversificare come posizioni le cose dentro però è capiente anche per fare un 12 un 16 e un 22 litri quindi puoi scegliere anche tu già il 12 che era molto semplice come struttura però aveva le stesse caratteristiche di durata del 22 quindi estremamente validi sì 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 il il fisico di emergenza che è una cosa che arriva dal trail ma che non decido di mettere anche su tiny da tutti i giorni insomma era lì il portachiavi integrato anche anche sì per chiudere perché poi sennò veramente io potrei anche parlare di materiali accessori e cose per tutto il giorno quindi credo che chi ascolta forse lo farebbe per meno in realtà il giro poi l'abbiamo concluso da Simalp ci hanno fatto vedere un po' di occhiali in realtà l'occhiale per me è un prodotto un po' strano raramente lo uso ma mi rendo conto che ormai sempre più gare richiedono occhiali specifici ad esempio UTMB in uno dei kit kit canicolo che chiamano kit canicola spero gli abbiano cambiato il nome richiede proprio un occhiale da sole e non è in teoria non sarebbe l'occhiale da sole da 5 euro che puoi trovare al supermercato quindi un occhiale un po' un po' particolare loro vogliono le ciali polarizzate sì esattamente infatti anche infatti anche Simalp da questo punto di vista si è adattata e ha creato un occhiale sia normale che uno con lente polarizzata ci hanno fatto vedere un po' di capi di abbigliamento secondo me la cosa c'era anche parentesi c'era anche una maglia che onestamente mi incuriosisce perché andrebbe provata una maglia che aveva una tecnologia per cui lo scopo era quello di assorbire il sudore all'interno quindi per evitare proprio di averlo addosso al tatto mi era sembrata molto pesante come maglia e conosco diversi sudatori seriali io sarei più o meno verso quella strada sarei curioso di vedere cosa succede data in mano a una di queste persone però insomma stanno anche loro provando a tirar fuori qualche tecnologia particolare da utilizzare per quanto mi riguarda la cosa assolutamente più interessante era la loro quella che chiamano ultra shell che è la loro giacca giacca da pioggia veramente 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 ben fatta 20.000 colonne d'acqua un sacco di traspirabilità il dettaglio veramente figo è il magnete sul cappuccio che ti tiene il cappuccio attaccato alla schiena mi ha dato mi ha dato una bella impressione più che altro al tatto mi ha dato l'impressione da giacca gore e alla metà del costo di un gore tanto che almeno per quello che ci dicevano loro chiamano mi pare sia cyclone la tecnologia che usano pare che in realtà questa tecnologia gli sia stata richiesta da alcuni brand per svilupparla per loro molto interessante mi ha onestamente mi ha colpito forse l'unico dettaglio che non mi è piaciuto visto così al volo è il copri zip l'oggettino che serve per far scorrere la zip che era in un tessuto che secondo me si bagna e si imbeve però sono veramente stupidato per il resto veramente tanto impressionato non mi aspettavo una cosa del genere e di giacca da pioggia io ne ho passate tante sotto le mani partendo dalla semplicissima abbonata tra l'altro se ricordo bene tu riesci a far piovere solo quando hai uscito la giacca da pioggia esatto e hai anche testate tutte esatto avrei dovuto farmi pagare quest'estate per far piovere nei posti l'idea di massima quando quando io ho una giacca da pioggia piove quindi sono quelle poche verità al mondo quelle poche certezze ti hanno mostrato le scarpe anche le scarpe si me le fate vedere molto brevemente anche perché credo che fossero i modelli in realtà ci sono stati aggiornamenti rispetto ai modelli di questa primavera quindi tutto quello che c'era già sulle outdoor guide di Schialper insomma tutto quello che è uscito è già stato visto quindi in realtà da quel punto di vista non ci siamo soffermati granché sulle scarpe loro hanno i loro i loro soliti modelli mi aspetto che per la primavera in realtà verranno uscirà la nuova evoluzione delle scarpe loro da audaci avevano lanciato un progetto ambizioso con una scarpa che si chiama 864 drop evo che è una scarpa drop variabile grazie a delle solette diverse quindi tu hai una scarpa che è un involucro abbastanza minimalista anche come evoluzione con la sua schiuma la sua suola e una suola sì anche abbastanza tacchettata quindi la puoi portare così e la la stomai è molto semplice però è pensato per poter sfoderare le solette e inserirne a piacimento una da 4 mm di drop una da che chiamano natural una da 6 mm che chiamano bilanciata e una da 8 mm che chiamano protettiva quindi a seconda del tipo di impostazione che vuoi avere tu della scarpa considerando che fondamentalmente la scarpa di per sé è una zero drop a cui tu cambi il drop con le solette tu puoi decidere anche se avere un approccio un po' più natural o un approccio più protetto non è riuscita secondo me al 100% come esperimento perché la scarpa nonostante tu cambi le solette la sensazione di una scarpa molto secca sempre comunque quindi non hai mai la sensazione di poter correre con una scarpa che ti fa sentir comodo e protetto è molto semplice ma magari l'apprezzeranno chi tagliava le scarpe come frisca anni fa però concettualmente spero sviluppino questa idea perché è molto molto interessante poter tenere una scarpa ma più grazie alle solette densità diverse modificare come ci corro dentro perché poi in realtà loro se non sbaglio sviluppano scarpe non da tantissimo quindi sono le classiche prime iterazioni di un paio di scarpe dove stai testando cose anche a livello di struttura e di materiali mi sono sembrate abbastanza abbastanza rigide quindi comunque con un approccio non vorrei dire vecchio perché poi in realtà non è il termine giusto però più conservativo mettiamola così meno innovativo se c'era appunto innovazione da quel punto di vista della soletta dal punto di vista della tomaia della struttura della scarpa sembrava veramente una scarpa classica quella che ti quella che ti saresti aspettato magari da anche banalmente da North Face tre anni fa quattro anni fa quindi chiudiamo veloce dai tanto siamo andati più che lunghi parliamo brevemente di quelli che sono stati i prototipi che bene o male si sono visti in giro in questo in questo weekend e che presumo ma potremmo vederli nei negozi ma anche potremmo non vederli mai nei negozi alla fine di per sé dopo attente analisi abbiamo stabilito che la scarpa che Jim Moon e Warren Z avevano i piedi che abbiamo confrontato con la tectonics e abbiamo visto che le schiume sono le stesse quindi il disegno dell'intersuola anche se con colori diversi ha lo stesso tipo di tampo quindi presumiamo sia una tectonics anche la suola identica però Jim Moon aveva una scarpa che sembrava avere un automai matrix più leggera e una ghettina la caviglia quindi una diciamo non è non è la tectonics 2 quella abbiamo già vista a catalogo che esce in prima della prossima non è quella è un modello aggiuntivo che probabilmente è stato fatto per lui un po' come Fransuola e aveva delle sue scarpe che non sono più state viste in giro se no non so da Eno d'altro se sei Wamsley o comunque se sei da Eno uno di quelli poi anche di gli guardate mi fate la suola delle tectonics con la tomaia delle maffate con una ghetta che non esiste e il tassello di una di una scarpa X la linguetta del spagante si si alla fine fai la tua ricetta quindi non poi abbiamo visto gli accetti adidas dalla da Peter Endal Endal della CCC fino alle donne fino a Thomas Evans Thomas Evans tutti con una scarpa da trail chiaramente con piastra altissima ammortizzatissima sembra una stradale del trail abbiamo visto prendersi qualche bel podio e ancora non sappiamo come si chiama però bene ci ha fatto piacere vederla e poi North Face che penso a livello estetico i loro atleti abbiano sbancato perché assolutamente hanno fatto quello che ha fatto avidas l'anno scorso secondo me atleti tutti riconoscibili vestiti uguali divisa bellissima divisa bellissima facevano brutto su tutte le distanze e Shide ma anche altri atleti e anche asiati tanti asiatici avevano questa scarpa molto alta che fa parte della nuova linea Vectiv Vectiv è la loro linea performance sta per uscire con due modelli nuovi uno da ultra molto ammortizzato slay slanciato anche poca felce la doveva essere la scarpa del suo break in 20 ma e uno un modello invece più leggero scattante per forse tre vie vertical che abbiamo visto in un'altra sede che non si posso nominare però ecco sono curioso di vedere i noministi modelli perché ancora non li abbiamo visti nei catari ottimo direi che questo è quanto vediamo l'anno prossimo magari se avremo il coraggio di andare su un giorno prima ancora e di dire ancora più sì a tutte le persone che ci chiederanno vuoi venire a non esagerate con queste richieste comunque Tommaso grazie mille chiudiamo la prima puntata di V-Side e forse ce ne sarà una seconda forse no ciao ciao grazie ciao ciao ciao